di parassiti e fitopatie e invece ogni volta ci lasciamo cogliere impreparati. Queste sono solo alcune proposte, peraltro contenute anche in un atto di sindacato ispettivo, il numero 407591 del 21 gennaio, ad oggi purtroppo ancora senza risposta. In questa sede sollecita appunto una risposta, ma molto di più si deve fare a favore della biodiversità, perché se c'è biodiversità sicuramente c'è maggiore sicurezza nei nostri suoli e a sostegno dell'agricoltura e degli agricoltori italiani. Grazie. Grazie, onorevole Parentela. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2377 del deputato Simonetti, concernente iniziative finalizzate a prevedere l'obbligo di etichettatura in relazione all'origine dell'atto utilizzato come materia prima nei prodotti lattiero caseari. Il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Cassiglione, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Presidente, onorevoli deputati, la salvaguardia del reddito degli allevatori è una nostra priorità assoluta. Siamo impegnate da due anni nel contrasto di una crisi che è strutturale, ma è anche una crisi europea. Come Governo abbiamo messo in campo azioni di breve e medio periodo con investimenti che superano i 130 milioni di euro. In questo contesto l'indicazione chiara ed evidente è l'origine della materia prima, è un elemento cruciale per valorizzare il lavoro degli allevatori italiani che rappresentano il cuore pulsante del settore lattiero caseario. Proprio per questo abbiamo inviato a Bruxelles lo schema di decreto che introduce l'obbligatorietà dell'indicazione d'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. Il consumatore potrà conoscere così con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte, lo yogurt, il burro, la mozzarella, i formaggi, i latticini. Siamo in attesa del via libera della Commissione europea per l'approvazione definitiva. Il decreto in particolare prevede che il latte o i suoi derivati devoranno avere obbligatoriamente l'indicazione d'origine della materia in etichetta con l'indicazione del Paese di mungitura, del Paese di confessionamento e del Paese di trasformazione. Qualora il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'indicazione di una sola dicitura, ad esempio origine del latte Italia. In ogni caso sarà obbligatorio indicare espressamente il Paese di mungitura del latte. Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che già hanno dei disciplinari all'origine, sono appunto disciplinate con appositi strumenti. Il latte fresco è già tracciato. Per quanto concedere le misure a sostegno del settore lattiero caseario, con le azioni citate d'Italia e tra i primi Paesi in Europa per entità dell'intervento. Sono state stanziate 32 milioni per l'aumento della compensazione IVA al 10% per il latte venduto alla stalla ed è stato attivato il fondo latte per ristrutturare i debiti e potenziare la moderatoria dei mutui bancari ottenuti con l'Associazione bancaria italiana. Altri 25 milioni di euro sono stati utilizzati per il sostegno diretto agli allevatori. 10 milioni sono state investite per l'acquisto di latte crudo da trasformare in UHT e destinare agli indigenti. È in corso anche una campagna di comunicazione istituzionale per sostenere i consumi di latte fresco. Sul fronte europeo inoltre c'è l'impegno insieme a Francia, Spagna e Germania per costruire soluzioni a partire dal finanziamento dell'Unione Europea della riduzione volontaria dell'offerta per una Ocm latte. Peraltro lo scorsa autunno l'Unione Europea ha avvalato un pacchetto di misure di aiuto eccezionale per i settori zootecnici. Tra le diverse misure concordate per quanto riguarda l'Italia sono di particolare interesse quelle previste dal regolamento delegato il 1853 del 2015 della Commissione riguardante la concessione di aiuti per gli agricoltori dei settori zootecnici e del regolamento delegato il 1852 sempre del 2015 della Commissione che istituisce un regime di aiuto per l'ammasso privato dei formaggi. Con il regolamento 1853 del 2015 sono state assegnate all'Italia 25 milioni di euro da destinare agli allevatori. Il regolamento 1852 sempre del 2015 istituisce poi un regime di aiuto per l'ammasso privato di un massimo di 100.000 tonnellate di formaggi. Il massimale è stato ripartito tra gli Stati membri sulla base della produzione di formaggi realizzati nel 2014 e per l'Italia è stato previsto un massimale di 12.000 tonnellate di formaggio ammassabile. Lo stesso regolamento prevede che i quantitativi non utilizzati vengano ripartiti tra gli Stati membri che abbiano fatto richiesta sulla base dell'effettivo utilizzo della misura. Peraltro, avendo esaurito il contingente assegnato, abbiamo presentato alla Commissione dell'Unione Europea per una riassegnazione dei quantitativi non utilizzati dagli altri Stati membri. La Commissione, con il regolamento 20-16 del 225 del 17 febbraio 2016, ha provveduto a ripartire i detti quantitativi assegnando all'Italia un ulteriore contingente di 27.025 tonnellate di formaggio che può soffrire dell'aiuto e dell'ammasso privato. Con l'assegnazione di quest'ulteriore contingente agli operatori italiani è stato riservato il 40% dell'intera misura comunitaria. Ricordo poi l'istituzione del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario previsto dall'articolo 1,214 e 217 della legge 190 del 2014, legge di stabilità del 2015. Per questa misura il decreto ministeriale 18 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio del 2016, all'articolo 2 assegna al settore lattiero caseario 15 milioni per il 2016, nonché 3 milioni di euro aggiuntivi in conto residui e 38 milioni per il 2017. Segnalo infine che il Consiglio del Ministro dell'Agricoltura dell'Unione Europea nel corso della riunione del 14 marzo ultimo scorso ha esortato la Commissione ad attivare tutte le misure eccezionali a disposizione ai sensi del regolamento 1308 del 2013 ed ha individuato alcuni aspetti dell'attuale politica comunitaria dove poter intervenire al fine di alleviare le attuali difficoltà del settore lattiero caseario. In particolare un ampliamento delle misure di interventi attualmente previste e un programma di pianificazione della produzione di latte affidato alle organizzazioni dei produttori e alle cooperative. In tale direzione stiamo esaminando possibili norme di applicazione a livello nazionale. Grazie Sottosegretario. Il deputato Simonetti ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego Onorevole. Sì, grazie Presidente. Grazie Sottosegretario per la mole di dati che ha elencato, però non ci ha detto. In caso di bocciatura da parte della Commissione europea della proposta che il Governo ha fatto appunto di etichettatura di provenienza del latte, se il Governo vorrà poi comunque andare avanti, anche a costo di essere sottoposta a una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, perché questo è il punto. Il punto è quanto l'Italia conti in Europa. La Francia è già riuscita a ottenere questa...